Ancora sconcerto a Pagani, dopo il ritrovamento del corpo del settantenne Alfonso Esposito nella sua abitazione in Via Torre, ieri mattina si presume che la sua morte risalga a 3-4 giorni fa. Per poter entrare ieri è stato indispensabile l'intervento dei vigili del fuoco allertati dai vicini di casa. Sono stati i carabinieri insieme ai caschi rossi a rinvenire il cadavere in avanzato stato di decomposizione e ci si interroga ora sul dramma della solitudine su cosa le istituzioni e la società possano fare. In proposito abbiamo sentito il coordinatore di AgroSolidale, Porfidio Monda. Bisogna riflettere anche sulle possibilità che ha una società che promuove la dimensione associativa che è l'aiuta, che la alleva, la fa crescere può secondo me cogliere un'opportunità in più perché io vedo tante associazioni di anziani, dove lavoravo prima c'era un'associazione di anziani che aveva penso più di mille iscritti. Una delle cose che loro facevano, loro come anziani normalmente era quello di monitorare le persone sole che stavano in difficoltà, loro stessi, a volte organizzavano la spesa, a volte organizzavano la consegna dei farmaci e così via, non avevano necessità di avere un servizio pubblico che lo facesse. Non è che non ci sia necessità di intervento, è ovvio noi ci muoviamo su un terreno in cui andiamo a coprire solo in parte l'emergenza, l'emergenza significa la non autosufficienza grave, tante situazioni di solitudine che comunque andrebbero seguite, ma non seguite nel senso che uno deve fare obbligatoriamente i servizi domiciliari, seguite attraverso iniziative sociali, attraverso iniziative che promuovono la partecipazione, che consentano a tante persone di uscire di casa, di uscire di casa, di socializzare, di fare società, penso i centri polivalenti per gli anziani, apparentemente sembra un'attività ricreativa, non è un'attività ricreativa, è un'attività che previene la depressione, che è l'anticamera della demenza, insomma, e tantissime situazioni di depressione partono proprio dal confinamento in casa, dal fatto che alla fine queste persone nel confinamento in casa progressivamente perdono le relazioni di rete, perdono i contatti, perdono la possibilità di poter uscire di casa, di cogliere l'occasione per poter uscire, per svolgere un'attività, per tenere la mente occupata. Io mi rendo conto che questa magari da noi non c'è una grande cultura del fare associazionismo, del fare società a questo livello, io vedo tantissime realtà del Nord Italia in cui invece tutto questo c'è, dobbiamo cercare di promuoverle queste cose, stiamo cercando di farla adesso ad esempio, abbiamo promosso i soggiorni climatici per 160 anziani a Pagani partiranno domenica e 70 a Sarno partiranno la domenica successiva, dobbiamo fare in modo che queste cose non siano episodiche, insomma. Grazie. 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 Grazie.